Con l'arrivo di azioni su Torino, anche di tutto il centro-destra compatto, la squadra è quasi in conclusione, ovviamente adesso ci sarà poi la mia lista che nei prossimi giorni presenteremo. A proposito di liste, bisogna correre per chiuderle il prima possibile? E qui bisogna correre, non solo per le liste, bisogna solo correre, però diciamo che ci siamo abituati e dobbiamo fare una piccola gara alla Forrest Gump. Anche pensando al programma, un programma per dare alternativa all'attuale amministrazione? Sì, un programma che condivideremo ovviamente con tutta la coalizione, creeremo un programma per rilanciare questa città, per ridare anche la voglia di partecipazione, l'entusiasmo, per ridare un sorriso e soprattutto dei progetti strategici che possano rilanciare Teramo e farla uscire da un declino ormai cronico. Essere riuscito a riunire il centro-destra le fa piacere? Sicuramente sì, è un'attestazione oltretutto di stima e di fiducia della mia persona e questo già è importantissimo e soprattutto avere una compattezza vuol dire che la condivisione di questa idea, di questo progetto di città e di quello che vogliamo fare e soprattutto di sostituire questa amministrazione per il bene di Teramo. Teramo deve essere l'obiettivo di tutti e quindi sono molto contento che il centro-destra abbia aderito, convinto a questo progetto particolare e originale.